Amici del vaso di Pandora, benvenuti. Il conflitto russo-ucraino sta accelerando tutte le dinamiche geopolitiche economiche, direi soprattutto quelle monetarie, che TV e giornali intenzionalmente nascondono riducendo tutto a una invasione russa in territorio ucraino. Una notizia vi do in anteprima prima di introdurre il nostro ospite per confermare questa disamina è che 70 banche straniere stanno aderendo al nuovo sistema di pagamento russo alternativo allo SWIFT. Questo è uno dei punti che tratteremo oggi insieme al mio illustre ospite Armando Savini, economista e saggista. Benvenuto, ben ritrovato Armando. Grazie, buongiorno. Tra l'altro tutti i temi trattati nel libro uscito da poco di Armando Savini, Sovranità, debito e moneta, lo vediamo qui in sovraimpressione, dal dominio delle banche centrali al Quantum Financial System per Database International Books. La nostra intervista, la nostra puntata comunque sarà legata tutta alla stretta attualità. Partiamo subito da questa, direi, notizia ancora sconosciuta, ai più, sicuramente tenuta taciuta appunto dalla mainstream, da TV e giornali. 70 banche straniere stanno aderendo al nuovo sistema di pagamento russo alternativo appunto allo SWIFT. Cosa sta avvenendo? Guarda, Carlo, questa notizia che poi era di pochi giorni fa su Riano Osti, ci sta dicendo che appunto 70 organizzazioni bancarie di 12 paesi, la banca centrale russa nella persona della Presidente Naviullina non ha voluto dare altri dettagli proprio perché queste banche hanno chiesto il segreto. Si tratta del passaggio dallo SWIFT, che è il sistema di pagamenti internazionale che è sotto leggi da statunitense, da cui è stata estromessa la Russia, al sistema alternativo russo e o cinese, non è ancora chiaro, al momento su poi uguale piattaforma finale, perché abbiamo sia il sistema quello russo di messaggistica tra le banche che il CHIPS, che poi è il Cross Border Interbank Payment System, cioè il sistema di pagamenti transfrontalieri, che è di tecnologia cinese e che dovrebbe essere, in base alle informazioni che ho ricevuto, la piattaforma di riferimento del famoso Quantum Financial System, di cui parleremo più in là. Questi stati sono grandi aziende bancarie che stanno abbandonando lo SWIFT per entrare nel nuovo sistema di pagamenti, nuovo sistema che appartiene appunto a questo nuovo sistema finanziario quantistico che è la base di quello che Huntington, ma anche Dugin ha riaffermato ultimamente, del nuovo sistema mondo, del sistema multipolare, un sistema che esce dall'egida del dollaro degli Stati Uniti, anzi dal predominio oserei dire, imperialistico degli Stati Uniti, insieme al dollaro, che hanno condizionato la storia geopolitica e anche economico-finanziaria di tutto il pianeta. Ecco, è molto interessante che ci siano appunto una settantina di organizzazioni di dodici paesi che non sappiamo quali siano. Scusami Armando, ti interrompo un attimo. Per quali motivi, diciamo, tutte queste banche, che sono molte, già molte, non danno questa notizia, non comunicano in questa fase, per una paura magari, per un timore di ritorsione magari? Ah beh, certo, è chiaro, perché tieni conto che già i fondi che erano della Banca Centrale della Federazione Russa sono stati congelati, congelati, distrutti, alienati dalle altre banche centrali, questa fu una iniziativa di Drag, credo, che era quello di congelare i fondi della Banca Centrale Russa e tu capisci che queste banche devono tutelarsi. Però siccome oramai è chiaro che il sistema dello SWIFT, quindi tutto il sistema, il vecchio sistema monetario e finanziario controllato dalla Fed, dalla Banca Centrale Americana, sta appunto crollando. Qualche giorno fa il presidente della Fed, Powell, ha detto delle parole insomma molto, molto forti, ha detto che sono in atto rapidi cambiamenti nel sistema monetario globale che potrebbero influenzare il ruolo internazionale del dollaro in futuro. E poi ha aggiunto che anche una central bank digital currency, cioè una criptovaluta digitale di una banca centrale statunitense, potrebbe potenzialmente aiutare a mantenere la posizione internazionale del dollaro. E questo ci spiega due cose. Allora, che il sistema vecchio, come lo conosciamo, sta cadendo a pezzi. E che c'è la tendenza di alcune banche centrali, come per esempio la Fed, come anche la BCE, di emettere, creare una criptovaluta proprio controllata dalla banca centrale, proprio per cercare di dare, di allungare la vita al sistema che ormai sta crollando. Per allungare l'agonia, diciamo, allora in questo caso. Sì, da un certo punto di vista l'agonia, più o meno. Sì, anche per le economie che sottostanno a questi regimi, a questi sistemi. E tieni conto che poi c'è un'altra cosa molto interessante. Io c'era una puntata, una tua intervista qualche giorno fa, dove si parlava proprio del gruppo Bilderberg e di un punto dell'ordine del giorno, che era la disruption of the global financial system, cioè la distruzione del sistema finanziario globale. Che sembra essere stata una tematica inserita lì, velocemente, anche se si è parlato di Ucraina. Poi qualcuno ha detto, che era qualche giornalista lì presente, ha detto che si è parlato sempre di Ucraina. Quindi è stato, forse possiamo pensare, perché nessuno di noi era lì. E' trappelato pochissimo, come è emerso appunto nell'intervista che abbiamo fatto, facevi riferimento del Bilderberg 2022 con Davide Rossi e Marco Bombassei. Lo dico per i nostri ascoltatori. Prego, prego. E sì, quindi ecco, questa distruzione del sistema globale è presente. Oramai, ecco, tranne i media mainstream che non ne parlano, che non parlano mai di cose importanti. Ecco, queste informazioni che fino a qualche mese fa potevano essere etichettate come complottiste, oramai succede questo, che quello che prima viene etichettato come complottista, dopo circa sei mesi diventa verità e viene sbattuto in faccia sui giornaloni mainstream. In realtà, ecco, queste informazioni che prima appartenevano a una cerchia molto ristretta. Io penso già a un anno, due anni fa, si parlava forse a malapena di quantum financial system, sembravano cose così. Oggi ne parlano quasi tutti e chi è che ha dato, secondo me, anche poi piena visibilità a questo sistema è stato il ministro russo Glasiev, nell'aprile, quando ha rilasciato un'intervista a The Cradle, che è quella testata, quel tabloid digitale, molto interessante come rivista, in cui parlava appunto del nuovo sistema finanziario. Un nuovo sistema che, diciamo, andrà a supportare un sistema mondo multipolare, cioè un sistema che è totalmente opposto dal sistema unipolare. Il sistema unipolare sappiamo che era il sistema liberista americano, definito come la civiltà per eccellenza, e se quella è la civiltà, il resto del mondo sono dei barbari, degli incivili. Quindi l'idea è quella di civilizzare il pianeta, cioè far diventare tutto stelle strisce, quindi che tutti mangiano McDonald, bevano Coca-Cola, eccetera, e questa è la loro colonizzazione. E soprattutto poi il sistema monetario e finanziario di ogni paese che era legato allo SWIFT è legato anche al dollaro. Ora, si capisce che se la Fed, che è la banca centrale americana, ha lo stampo del dollaro e se la maggior parte delle transazioni internazionali, come anche il petrolio o anche le risorse naturali, avviene in dollari, ecco che gli Stati Uniti hanno un vantaggio unico al mondo e quindi possono condizionare le economie mondiali. E anche la capacità di estromettere qualcuno dal sistema di pagamenti dello SWIFT, come è successo con la Russia, è un'arma di ritorzione molto forte, perché alcuni paesi che per esempio potrebbero dipendere dalle importazioni, senza dollaro e senza SWIFT si troverebbero isolati fuori dal mondo e quindi incapaci anche di comprare e vendere. Questo è un'arma di ricatto molto forte e quindi credo che sia anche la ragione per cui queste 70 organizzazioni abbiano aderito top secret al nuovo sistema. Certo. E di fatto invece questa esclusione al sistema SWIFT sta accelerando il processo, in realtà è un acceleratore di processo opposto quindi a una proprio multipolarizzazione anche del sistema economico anche, no? Sì, paradossalmente queste sanzioni che l'Unione Europea ha voluto infliggere alla Russia sono state un boomerang terribile. Leggevo qualche giorno fa, sempre su Riano Avosti, credo, quindi il giornale russo, che alcuni… Poi riportiamo, scusami, lo dico proprio per gli ascoltatori, poi riporteremo il link proprio nel testo di accompagnamento a questa intervista, così potrete tutti consultarlo. Prego. E leggevo che appunto Macron ha cominciato a ribadire con insistenza che il prezzo da pagare per queste sanzioni in Europa comincia a essere troppo alto. Questa era una notizia di due giorni fa, che non è stata riportata sui media, perlomeno io non l'ho letta, sui media nostrani, né diciamo i soliti. Non c'era, non c'era. E quindi ecco, questo è importante perché comincia ad appertire una certa stanchezza. Sappiamo che Macron ha perso la maggioranza in Francia, comincia a vacillare e quindi ecco, comincia a sentire anche i contraccolpi di queste sanzioni russe che poi in realtà sono un boomerang sulla nostra economia. Sappiamo da poco che Putin ha ridotto anche il gas del 60% di forniture all'Europa e l'Italia vedrà ridorsi il 15% di forniture. Anche se poi sappiamo che in Italia abbiamo dei giacimenti di gas ricchi ma che sono stati chiusi e non si sa perché. Qual è la tua, Armando, qual è la tua ipotesi diciamo sul perché sono stati chiusi? Guarda, c'è in atto, secondo me, ma credo oramai sia sotto gli occhi di tutti, una proprio tendenza a distruggere l'economia italiana, a distruggere non solo l'economia ma anche l'etnos, cioè questa proprio tendenza a voler, hanno già cominciato da molto tempo con la cultura eccetera, ma ultimamente notiamo che queste politiche economiche sono delle politiche volte a veramente non a contrastare la crisi ma ad accelerarla. Noi abbiamo delle riserve di gas, c'era tempo fa qualche settimana fa uscito un report da parte, adesso non ricordo di qual è la testata, che parlava appunto dei pozzi di gas che noi abbiamo e che purtroppo sono chiusi e anche gli enti che si occupavano dell'estrazione del gas non riuscirono a capire il perché fosse stata arrestata questa politica della ricerca di risorse naturali, quindi l'Italia non è ricchissima come la Russia del gas, però potrebbe avere una migliaia di metri cubi all'anno che potrebbero in questo momento andare a compensare la domanda senza che i prezzi salgano. Ora tieni presente che in questo momento sembra che ci sia una guerra per procura, nel senso che gli Stati Uniti non possono dichiarare guerra alla Russia, però utilizzano l'Unione Europea per creare problemi alla Russia. Ora c'è anche l'entrata di Svezia e Finlandia forse nella NATO, visto che Erdogan in cambio di alcuni riconoscimenti e di armi eccetera eccetera ha tolto il veto e già Putin ha detto guardate che la Russia risponderà in maniera speculare, cioè se la Russia vede raggrupparsi armamenti e eserciti al confine credo che risponderà in maniera speculare. Però ecco tutto questo credo sia il tentativo, forse l'ultimo colpo di coda ecco di un sistema che sta crollando e cerca di trascinare nell'abisso, nel baratro quanto può. Abbiamo sia diciamo questo livello geopolitico e poi l'idea che stiano utilizzando la crisi scaturita da questo dissidio con la Russia proprio per portare a compimento quello che già era stato scritto nei loro programmi, quindi la crisi economica, la crisi climatica, la carestia, adesso si dice che forse toglieranno l'energia elettrica quando ora il ministro, insomma cose veramente che non sono neanche... Senti, ho letto, ho riportato anche alcuni quotidiani ovviamente non allineati al mainstream, che l'obiettivo è quello di portare una domanda di energia elettrica, renderla proporzionale all'offerta, quindi praticamente vuol dire proprio tagliare il gas e probabilmente anche mettere in crisi le aziende di conseguenza, perché il gas disponibile sarà evidentemente poco, meno di quello che servirebbe per un normale funzionamento anche delle aziende, dell'economia eccetera, quindi proprio ridurre la domanda, quindi mettere in crisi o addirittura far chiudere settori o determinate, tutta una determinata fascia di aziende. Ma guarda, io credo di sì perché tutto prosegue come da tabella. Prima abbiamo avuto la famosa crisi pandemica che tendeva a distruggere la domanda, quindi abbiamo avuto un calo dei consumi, un calo degli investimenti, dell'occupazione della produzione e poi a un certo punto abbiamo visto che l'economia era ripresa un pochino, cioè o meglio la domanda di beni dopo la crisi è ripresa, ma l'offerta, la capacità produttiva non era più quella di prima, bar, ristoranti, parecchie aziende hanno chiuso anche. Adesso è il momento della crisi energetica, quindi bisogna rendere scarse le risorse, rendendo scarse le risorse aumentano i prezzi, infatti siamo in deflazione, prima eravamo in deflazione, ora siamo in stagflazione, perché hanno mantenuto l'inflazione nascosta, nascosta insomma, quello che si poteva. Addirittura si dice oggi che stiamo all'8% alle statistiche. Qualche settimana fa Franco? Secondo te, scusami, qual è l'inflazione reale adesso? Dicono l'8% ma è quella reale, guardiamo solo i carburanti, cioè l'8% è ridicolo insomma, direi che siamo all'8%. Guarda, io credo molto di più, nel senso che Franco qualche settimana fa diceva, ah sì ma siamo al 2% se non teniamo conto del rincaro dei carburanti. Ora, come frase, togliamo la puccia principale del paniera. Esatto, perché l'offerta di produzione dipende da benzina e carburanti, anche la distribuzione dei beni, perché ricordiamo che è su gomma in Italia, dipende dai carburanti, quindi è una frase fuori luogo. Secondo, per esempio, Putin al suo venticinquesimo forum economico di San Petroburgo, due settimane fa, diceva appunto che alcuni stati europei sono arrivati all'inflazione del 20%, quindi diciamo che io non mi sorprenderei se l'inflazione qua in Italia, ma anche in Europa, oscillasse tra il 15% e il 20%, perché oramai i prezzi sono veramente troppo alti. Senti, hai nominato adesso il discorso di Putin un paio di settimane fa al summit di San Petroburgo. È da notare che subito dopo ci sono state delle affermazioni di Kissinger che ha detto che il sistema unipolare è fallito. È un altro passaggio molto interessante, sempre di Kissinger, che l'Europa dovrebbe recuperare e ristabilire i rapporti con la Russia. Che interpretazione hai tu di queste affermazioni di Kissinger? Calcolando la figura da cui sono uscite queste affermazioni, è l'indice che qualcosa, la butto lì, che qualcosa si è rotto all'interno dei centri di potere del mondo occidentale? Guarda Carlo, questa uscita di Kissinger mi sembra che sia la seconda o la terza, non ricordo, c'è stata una precedente in cui ricordo, era credo a Davos, in cui Kissinger ha detto chiaramente che bisogna riconoscere la Russia nell'Europa e i suoi valori. Stava lodando i valori della Russia, valori che oggi vengono messi in discussione da un occidente che con la sua propaganda deforma la realtà delle cose. E poi diceva un'altra cosa molto interessante, diceva che l'Ucraina deve essere pronta a perdere qualche territorio. Credo che questa di Kissinger, credo che Kissinger è l'uomo del Deep State, è colui che per anni ha condizionato la politica estero-americana, è colui che avvicinando Aldo Moro gli disse che se avesse fatto crescere l'Italia l'avrebbe fatto uccidere. Quindi insomma non è una persona… Secondo me questa di Kissinger non è che sta intercedendo per il mondo libero, è forse un modo per cercare una tregua con la Russia e far guadagnare tempo al sistema morente. oramai che il sistema unipolare sia crollato, sia giunto al crepuscolo, oramai è sotto gli occhi di tutti. Solamente i media che fanno propaganda continueranno a dire che va tutto bene. Lo stesso Kissinger che è un uomo che ha una certa visione profonda della geopolitica, si rende conto che siamo giunti alla fine del sistema unipolare. Ed era qualcosa che già si era previsto tempo fa. Lo stesso Huntington parlava proprio di conflitto tra le civiltà e dell'emergenza della multipolarità. Quindi che il sistema liberista stia arrivando, il sistema liberista occidentale di impronta USA, NATO, UE, sia giunto alla fine dei suoi giorni. Oramai, questo anche lo stesso Kissinger, diciamo, farebbe un errore a sottovalutare questa visione. Credo che sia un tentativo da parte del Deep State, io lo vedo così, di prendere tempo con la Russia, perché sanno che gli Stati Uniti non possono competere con la Russia. Gli Stati Uniti non possono dichiarare guerra alla Russia e soprattutto non sono in grado di competere in una guerra contro la Russia. Ecco perché stanno mandando avanti l'Europa e stanno cercando, diciamo, di fare questi giochini, di far entrare Svezia e Finlandia, di accerchiare la Russia. Putin qualche giorno fa, sempre al famoso forum, ha detto una cosa molto interessante, che secondo me è la chiave oggi del sistema multipolare, ha detto uno Stato o è sovrano o è una colonia. Eh sì, terzio non dato. Esattamente, ma ha parlato non solo di sovranità, di sovranità monetaria, ma soprattutto ha posto l'accento sul discorso della sovranità tecnologica. Cioè la Russia in tutti questi anni ha avuto una crescita tecnologica e le armi di cui dispone oggi anche i missili ipersonici sono qualcosa a cui, diciamo, gli Stati Uniti non possono rispondere prontamente. Leggevo tempo fa che un missile ipersonico non è controllabile, non è prevedibile la traiettoria. Quindi diciamo che anche i sottomarini russi, gli ultimi che sono usciti, sono di una tecnologia avanzatissima. Quindi la Russia ha questa supremazia, diciamo così, tecnologica, che per esempio gli altri Stati occidentali hanno perso, perché il principio è devi produrre qualcosa, allora un pezzetto te lo fa la Cina, un pezzetto te lo fa il Brasile, un pezzetto... quindi sei dipendente dalla economia globale. L'abbiamo visto anche con le mascherine, quando c'era la cosetta pandemia, le mascherine le producevano tre grandi aziende mondiali e noi eravamo costretti a comprare il prezzo fatto da queste aziende. Poi qualcuno ha cominciato a produrle in Italia, si è cominciata la produzione, ma questo ci ha veramente fatto capire quanto sia importante avere delle risorse strategiche, degli asset strategici e noi pensiamo che noi avevamo per esempio l'IRI, l'Istituto di Riconversione Industriale, che era credo la sesta o settima azienda mondiale, distrutta, spacchettata e svenduta da prodotti, eccetera. Noi avevamo appunto queste grandissime aziende, uniche al mondo, però l'abbiamo perso, quindi abbiamo perso degli asset strategici. Teniamo presente che anche gli Stati Uniti in questi ultimissimi decenni hanno decentrato, hanno delegato alla Cina settori industriali anche molto importanti che hanno un elevato know-how e l'hanno proprio lasciato nelle mani cinesi e quindi da questo punto di vista anche gli Stati Uniti dipendono molto dalla Cina poi alla fine, cose che sono avvenute negli ultimi 20-30 anni al massimo. Sì, ma sai che cos'è Carlo? È proprio secondo me la contraddizione insida nel capitalismo, cioè il voler accumulare, massimizzare il profitto e quindi andare a delocalizzare la produzione dove costa meno, alla fine ti rende dipendente e quindi basta uno shock internazionale che tutti quanti si fermano alla produzione. Io sai c'era Keynes, John Maynard Keynes, che diceva nel 33 circa, non ricordo con esattezza l'anno, diceva che il commercio internazionale è importante, però oggi possiamo permetterci il lusso di essere anche indipendenti. Quindi detto dal padre della macroeconomia che lui era di scuola neoclassica, liberista, anche se ha apportato dei cambiamenti molto importanti. Quindi, cioè dover tutto demandare al commercio internazionale per i vantaggi comparati, nel senso che lì costa di meno, quindi a me conviene specializzarmi in un settore e acquistare dall'altra nazione specializzata nell'altra. Questo poi comporta anche una perdita di indipendenza e dal punto di vista geopolitico una certa debolezza. Ecco perché giustamente Putin ribadiva proprio questa sovranità anche tecnologica. Diceva che uno Stato o è sovrano o è colonia e non può, se è colonia, competere nel nuovo assetto geopolitico. Certo. Senti, io vorrei affrontare un ultimo punto che magari poi riprenderemo, anzi, vista l'importanza, riprenderemo prossimamente in un altro nostro appuntamento, un'altra nostra intervista. Ecco, l'avevi già nominato prima che recentemente il ministro russo Sergei Glaziev ha parlato del nuovo sistema finanziario globale basato sulla piattaforma CIPs, the cross-border interbank payment system. Ecco, di questo tu tra l'altro hai recentissimamente parlato personalmente con il filosofo Alexander Dugin. Ecco, sinteticamente perché poi questo sarà un argomento che sicuramente riprenderemo molto a breve. Ecco, quali sono le informazioni più importanti? Allora, come dicevo prima, queste informazioni che erano di stampo indichettate come complottiste in realtà stanno uscendo fuori. Ad aprile Glaziev ha parlato del nuovo sistema finanziario. Sarà un sistema in cui, per farla breve, le banche centrali non potranno più produrre e creare moneta da nulla, come è successo adesso, ma la moneta avrà sempre un sottostante che non sarà solo l'oro, il palladio, quindi i metalli preziosi, ma per asset reale si intenderà anche la popolazione, si intenderà anche il paesaggio, la cultura, tutti quegli elementi che caratterizzano un popolo e che danno valore aggiunto. Noi pensiamo che l'Italia è il turismo per l'Italia, pensiamo tutte le opere d'arte che abbiamo. Ecco, tutti questi elementi creano valore aggiunto non solo economico, ma anche culturale, sociale. Quindi ecco che questo rientra nel concetto di asset reale. Quindi la moneta servirà e coprirà prettamente gli asset reali. Quindi è possibile anche in questo contesto che la moneta verrà creata dalla banca centrale e piccola parentesi, Carlo, si ritornerà molto probabilmente alle banche centrali nazionali, forse noi ritorneremo alla lira, non sappiamo, ma molto probabilmente si ritornerà a questo. Tieni presente che il 10 giugno è successo qualcosa, il Ministero dell'Ivole e delle Finanze ha riacquistato i propri titoli. Anche questa notizia top secret. Sì, non è passata molto. Non è passata molto poco. Proprio per i cacciatori di notizie la sanno, direi. Questo è importante. Ecco, dici questo è un passaggio fondamentale, spiegacelo Armando. Sì, tieni conto che era la banca centrale europea ad acquistare sul mercato secondario i titoli del debito. Il fatto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze riacquisti i propri titoli vuol dire che l'ha fatto tramite la banca centrale, la Banca d'Italia. Quindi che le banche centrali possano piano piano riappropriarsi della propria sovranità monetaria. Questo è molto importante ed è un'inversione di tendenza, a cui non eravamo abituati ormai da decenni. E' contento Draghi di questa cosa? Ma, guarda, su questo non ho avuto modo di esaminare. Anche perché Draghi, diciamo che è l'uomo del whatever it takes, che ha voluto sempre mantenere l'euro in vita a costo di sacrificare la Grecia, è un uomo che porta avanti... E l'Italia. E anche l'Italia, certo. E' un uomo che porta avanti la sua agenda, è chiaro quale sia l'agenda comune, la crescita del PIL italiano e della sua potenzialità. Dunque, per tornare al discorso del quantum, quindi questo sarà un sistema dove non potrà più crearsi moneta, come è successo adesso. Le banche centrali creavano moneta per le banche, le banche facevano speculazione, che addirittura si chiama asset inflation, cioè l'inflazione degli asset, perché compravano titoli e quindi speculavano, eccetera. Mettendo poi a rischio maggiormente le banche più esposte. E quindi la moneta sarà a servizio dell'economia e del popolo. Quindi c'è un riappropriarsi di uno strumento molto importante, perché la moneta è legata anche alla libertà di un popolo. E questo verrà fatto attraverso una tecnologia, che è la tecnologia quantistica. Cioè il tutto sarà gestito da questo quantum financial system. E che cos'è? È un sistema di computer quantistici, caratterizzati anche dall'intelligenza artificiale, che gestirà il sistema economico al meglio. E non sarà più possibile, diciamo prima, creare moneta, ma soprattutto quello che succedeva tempo fa, per esempio con le cripto, tipo il bitcoin, che venivano utilizzati per pagare i riscatti, o per comprare armi, droga. Quindi ecco tutte quelle attività economiche, che dal punto di vista etico non soddisfano certi criteri, quindi ecco saranno estromesse. E tutte quelle banche che non potranno, quindi sistemi bancari che non potranno giustificare quella moneta, frutto di cosa, ecco che resteranno fuori dal sistema. E' importante per ogni banca, e qui ritorniamo alle famose 70 banche e organizzazioni che sono entrate nel nuovo sistema, per sopravvivere una banca oggi deve necessariamente approdare al nuovo sistema quantistico, perché il computer quantistico è caratterizzato da quella che si chiama la supremazia quantistica. Mi spiego in parole molto povere. Cioè il computer quantistico essendo in grado di fare delle operazioni indefinitivamente superiori a quelle di un computer classico, in una frazione di secondo, ok? Mentre un computer classico può metterci anche 100 anni per fare un'operazione, questo fa sì che il computer quantistico abbia più risorse per distruggere la chiave di criptazione, la criptografia appunto di un sistema bancario. Pensiamo a un pagamento, c'è tutto un sistema criptografico adesso in questo sistema, che può essere distrutto dal nuovo sistema. Quindi chi rimane nel vecchio sistema non può più garantire una sicurezza al 100%. Questo è importante e questo ci spiega la necessità di queste banche di passare prima che il sistema unipolare, quindi americano, affondi con tutto lo Swift, prenda uno scialuppe di salvataggio per abbordare il nuovo sistema. Chiarissimo, chiarissimo. Sono tematiche che riprenderemo molto a breve. Armando, guarda, io chiuderei proprio relativo al quantum financial system, chiuderei con proprio un'ultima domanda per una tua disamina, una tua spiegazione molto così sintetica. Perché il quantum financial system è sostanzialmente sconosciuto agli economisti e addirittura in certi casi snobbato? Ecco, è quasi un po' una curiosità, però sicuramente ha una sua spiegazione. Guarda, ti dico, io ho insegnato all'università tempo fa, ho stato docente al contratto di economia e metodi di ricerca per il business, anche di storia economica, e devo dirti che l'università oggi è un pochino ingessata, nel senso che i programmi sono quelli, l'agenda anche lì è quella liberista, nel senso che tu insegni economia, il tuo corso è quello, diciamo, dell'economia neoclassica, questa è l'economia par excellence. Non c'è spazio per l'economia eterodossa, per altri modelli, e credo che parecchi oramai, dopo 20-30 anni che sono in quel box, in quel paradigma lì, fanno fatica a uscire fuori. Sai, credo che sia anche un modo per neutralizzare la propria dissonanza cognitiva, nel senso che pensa a persone che hanno, ma questo non solo in economia, anche medicina o altri settori, persone che hanno passato 30-40 anni a studiare alcune cose, tutta la loro vita, all'improvviso scoprono che c'è qualcosa che potrebbe mettere in discussione 30-40 anni di studio. Si fa prima a dire che sono sciocchezze, che esaminarla con attenzione, con quella, diciamo, onestà intellettuale che dovrebbe caratterizzare ogni accademico, ogni persona di buona volontà che cerca la verità. e poi c'è un'altra cosa importante, questa è una mia opinione, quindi forse anche che mi sia sbagliato, ma c'è un altro fattore molto importante, a mio avviso che ha giocato un ruolo fondamentale in questa storia, che si tratta di intelligence. Cioè questo nuovo sistema basato sui computer quantistici è un sistema che è, diciamo, protetto dal segreto militare. Gli Stati Uniti, quando Trump nel 2018 ha stanziato dei fondi per quello che è il quantuminitiative.gov, poi chiunque vuole può andare a vederlo, era proprio per lo studio dell'applicazione delle reti quantistiche economia, finanza e cyber sicurezza, ma anche la difesa, il settore della difesa. Quindi è un settore molto importante. Tempo fa parlai, per esempio, con l'ex generale dell'esercito degli Stati Uniti, General Belli, ora in pensione, molto amico di Trump, adesso è analista per Fox News, e lui scriveva, appunto, in un articolo del Quantum Financial System, di come funzionava, del perché, e che era uno strumento contro i famosi banksters, questi banchieri che avevano, secondo lui, derubato gli americani, eccetera, e fa i nomi delle solite famiglie. E tutto questo è legato al mondo anche militare, top secret. E lui mi diceva che era just intel, mi ha risposto. Cioè, sono operazioni di intelligence. Chiaro, chiarissimo. Ci sarebbero ancora parecchi argomenti, ma legati anche all'attualità, ma la situazione è in totale evoluzione. Ovviamente tante notizie che non sono di dominio pubblico, anzi, sono top secret. Avremo occasione di parlarne molto a breve. Direi che chiudiamo qui per oggi la nostra intervista. Io ringrazio molto Armando Savini, economista e saggista, di cui ricordo il libro che vediamo qui in Sovraimpressione. Sovranità, debito e moneta. Dal dominio delle banche centrali al quantum financial system. Grazie, grazie e a presto. A voi. Grazie, grazie ai nostri ascoltatori.